Un ringraziamento al dirigente scolastico Giulio Di Cunto, al corpo dei docenti, al liceo scientifico di Montesarchio per questa bellissima opera che mancava in questo paese, uno spazio per i ragazzi importante e sono contento nella duplice veste di consigliere provinciale della provincia di Benevento, di sindaco della città di Montesarchio la provincia di Benevento è appunto la tenutaria di questo immobile, anche se la proprietaria del comune di Montesarchio e anche l'ausilio che la provincia ha fatto da un punto di vista tecnico a questo PON fatto dalla scuola, dal liceo sono fondi appunto del MIUR per cui veramente un grazie alla scuola, al liceo, a Giulio Di Cunto che è stato impegnato su questa struttura un anno di lavoro e credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti non ancora abbiamo completato tutto perché c'è un impegno della provincia attraverso dei fondi retrospettivi del MIUR a completare un retro palco per avere dei servizi al palco per farlo diventare veramente non solo un auditorio ma anche un teatro che sia all'altezza della situazione, all'altezza di una città come Montesarchio, della Valle Caudina perché manchiamo di queste strutture per fare cose culturali. La cosa importante però oggi è avere uno spazio del genere che possa significare per i ragazzi, per gli studenti di Montesarchio, di quelli che frequentano il liceo scientifico e l'intera Valle Caudina di una struttura di servizio appunto per fare attività culturali. Dunque è una cosa per noi di estremo vanto poter rappresentare alla popolazione questo rinnovato auditorio perché l'auditorio c'era anche prima ma abbiamo potuto suffruire di un finanziamento sui fondi europei del Ministero della Pubblica Istruzione per le strutture scolastiche. Quindi il merito del fatto che oggi abbiamo un auditorio così funzionante, funzionale e così bello è di chi 5-6 anni fa ha iniziato questa trafila facendo un progetto di massima che poi mano a mano nel tempo si è tradotto in un progetto esecutivo nella possibilità di riqualificare lo spazio e fare in modo che questo spazio possa essere utilizzato per tutte le attività che noi pensiamo di fare con i ragazzi, dal teatro al cinema, alle conferenze, ai convegni. Quindi uno strumento sicuramente valido per la scuola e per quello che intendiamo fare però sicuramente anche una struttura che può essere messa a disposizione della popolazione per eventi culturali. Quindi su questo puntiamo molto a fare delle cose che non rimangano nel chiuso della scuola.